Per la Sareno Reggio Calabria è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al MIT il progetto di fattibilità tecnico-economica dei primi 33 km di strada ferrata tra battipaglia e romagnana per 2,7 miliardi di euro finanziato con risorse PNRR. Ottime notizie non solo per la Calabria ma per tutto il mezzogiorno per merito del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha messo a disposizione quasi 30 miliardi per due opere, due progetti per l'alta velocità entrambi nel sud Italia, Salerno Reggio Calabria e Palermo Catania che garantiranno collegamenti più celeri e scambi commerciali più agevoli. Una risposta fondamentale da parte della Lega per le esigenze del Meridione in poco più di due mesi dall'insediamento di Salvini al di Castero di Porta Pia. Fatti e poche chiacchiere, così la senatrice calabrese della Lega, Tilde Minasi, componente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni e Innovazione Tecnologica. Si registra un palzo dei contagi per Covid in Nicarabria. Nella giornata odierna se ne registrano infatti 806, un dato che trova comunque una spiegazione nel consistente aumento dei tamponi effettuati, 4.797. Aumenta anche il tasso di positività che tocca il 16,80%. I nuovi decessi sono 5, uno in meno rispetto a lunedì, con il totale dei morti che raggiunge quota 3.174. Aumentano di due unità i ricoveri nelle rianimazioni, dato complessivo 19, mentre diminuiscono di uno quelli nei reparti ordinari, totale 176. Beni e partecipazioni di nuove società per un ammontare di oltre 300.000 euro sono stati sequestrati dallo scico della Guardia di Finanze con la collaborazione del GICO Bologna e dei nuclei PEF di Reggio Emilia, Parma, Mantua, Vacrotone e La Spezia a un imprenditore di origini calabresi ritenuto vicino alla cosca di Indrangheta Grande Aracri di Petilia Policastro. Le indagini sono scaturite a seguito di un'interdittiva antimafia emanata dalla prefettura di Reggio Emilia nei confronti di una serie di società operanti nel settore edile, riconducibili all'imprenditore ed inseriti inizialmente nel circuito delle imprese preposte all'opera di ricostruzione avviata successivamente all'evento sismico del 2012 che ha interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantua e Reggio Emilia. Alla luce del provvedimento interdittivo, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha delegato al servizio centrale una serie di approfondimenti anche sotto il profilo patrimoniale al cui esito è emerso da un nollato un'evidente sproporzione patrimoniale rispetto alla sua capacità reddituale lecita. Dall'altro l'emissione di false fatturazioni e l'assunzione della qualità di prestanome al servizio della cosca di Indrangheta Grande Aracri, le cui ramificazioni in territorio emiliano è emerso tra le altre dall'operazione Emilia con cui nel 2015 sono state arrestate 160 persone tra Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia per i reati tra gli altri di associazione mafiose, estorsione ed intestazione fittizia di beni. 70 le condanne passate in giudicato al termine dei tre gradi del processo. Il prefetto di Vibo Valencia, Roberta Lulli, ha disposto l'invio di una commissione di accesso agli atti al comune di Capistrano per accertare infiltrazioni mafiose e condizionamenti nella vita dell'ente. La commissione avrà tre mesi di tempo per esaminare atti, appalti, incariche, affidamenti ed anche gli eventuali rapporti degli amministratori con la criminalità organizzata dell'Andrangheta. L'allora presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra nello scorso mese di giugno aveva sollecitato l'accesso agli atti al comune di Capistrano evidenziando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso e le parenteli di alcuni amministratori con personaggi coinvolti in procedimenti antimafia e per traffico di stupefacenti. Un consigliere comunale di Capistrano è inoltre imputato in un'inchiesta antimafia mentre il figlio è detenuto per traffico di stupefacenti e per lui sono stati richiesti dalla DDA 15 anni di reclusione. L'amministrazione comunale di Crotone con apposita delibera di giunta ha dato mandato agli avvocati di querelare lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del premio strega nel 2021 per alcune frasi pronunciate nel corso della trasmissione in onda di La 7 dello scorso 8 ottobre. In quell'occasione lo scrittore nel commentare l'esito del referendum in Crimea sostenne «è un referendum organizzato da Putin, è come se la drangheta gestisse un referendum a Crotone». Parole che secondo la giunta comunale guidata dal sindaco Vincenzo Voce hanno accostato in maniera falsa ed offensiva, ledendone gravemente l'immagine la città di Crotone all'associazione di stampo dranghetista, alludendo che tutti i cittadini ne facciano parte. La giunta, considerata la delicatezza della vicenda, ha ritenuto doveroso proporre denuncia a querela nei confronti del soggetto che ha pronunciato le parole offensive e di tutti i soggetti ritenuti responsabili di reato per aver arrecato offesa ai cittadini crotonesi, ledendone la reputazione. Dopo il periodo più critico della pandemia, l'Assemblea annuale dei soci della provincia di Garanzara dell'UNMS, un onio nazionale mutilate a invalidi per servizio, si svolta nei giorni scorsi in presenza. Per il Presidente nazionale UNMS Antonio Sabatino, il supporto dell'associazione alla fascia di popolazione più fragile è stato difficile, complesso, ma determinante nell'offrire i numerosi servizi precarizzati dalle restrizioni anti-Covid-19. La nostra associazione durante questo periodo si è attivata tantissimo, nonostante le chiusure che abbiamo avuto, per dare il supporto necessario a tutti coloro che ne hanno avuto bisogno, con il supporto telefonico, videoconferenze, oppure portando qualcuno in ospedale. Abbiamo sviluppato tantissime pratiche di aggravamenti, di richieste di rivalutazione delle pensioni, in molti dei casi positivamente, anche per esempio il rapporto che c'è con il comitato di verifica al MEF, lo abbiamo fatto accompagnandole di persona, tutti coloro i quali ne avessero bisogno. Il nostro impegno, il nostro compito, la nostra tutela, siamo qui per questo e per cui questo dobbiamo fare. Per il Presidente nazionale UNMS Antonino Mondello, Presidente all'evento, diversi sono gli obiettivi che l'associazione persegue nel confronto con il Governo nazionale per gli associati, ma ci dice, poco o nulla è stato fatto a partire dalla rappresentanza del medico in Commissione. Avere un rappresentante a tutela dell'invalido, del portatore di handicap nella Commissione era una cosa importante, ma con il nuovo Governo verrà riproposta. Io spero invece di un disegno di legge venga fatto un decreto legge. Ci stiamo lavorando. Al termine dell'Assemblea, l'UNMS ha consegnato le targonorifiche all'Arma dei Carabinieri all'Esercito Italiano in segno di riconoscenza e gratitudine per l'impegno profuso alla comunità in difficoltà durante la pandemia e di seguito gli attestati di benemerenza per i soci che hanno raggiunti 50 anni di iscrizione all'Unione Nazionale Invalidi per Servizio. È stato un festival d'autunno pieno di emozioni, una nuova sfida che volevo affrontare, credo di esserci riuscita. Con queste parole Antonetta Santacroce ha introdotto la conferenza stampa tenutesi alla Camera di Commercio di Catanzaro che ha suggellato una diciannovesima edizione innovativa e dai contenuti culturali multidisciplinari. Quest'anno il festival si è raddoppiato con 20 spettacoli proposti in 5 location differenti. Abbiamo inglobato i borghi più importanti della provincia di Catanzaro, quindi Santa Caterina, Montauro, Soverato, Tiriolo, tutte le location storiche più importanti di questi comuni e anche Troppe è appunto nominato a Borgo dei Borghi 2020, offrendo quindi questi spettacoli che hanno spaziato tra musica, danza e recitazione, rivolgendosi quindi a tanti target di pubblico variegati e in modo particolare ai giovani. Sono contenta che siamo riusciti a coinvolgere sia attraverso una politica di ticketing loro dedicata, sia attraverso degli incontri con gli artisti che li hanno visti protagonisti e quindi mi riferisco all'incontro con Lucia La Carra, con il soprano Amarilli Nizza e il tenore Fabio Armiliato, lo spettacolo Teresa dedicato appunto alle donne di Indrangheta, quindi a questo tema della legalità che è molto sentito nelle scuole. Insomma abbiamo proposto una serie di attività dirette ai giovani che hanno incontrato il loro interesse e poi è stato bello vedere il teatro Puliteama, gremito di studenti dell'università, così come del conservatorio e anche del liceo musicale di La Mezza, il liceo coreotico musicale che ha seguito tutta la nostra programmazione e sono molto contenta perché è l'unico liceo specifico nel suo genere Il supporto di Comune, Camere di Commercio e Regione, ha detto la direttrice del Festival Santa Croce, di vitale importanza per lo sviluppo del Festival, ecco perché lavoreremo da subito sinergicamente a una coprogrammazione, spero anche che la Regione pubblichi i bandi culturali già nei primissimi mesi del prossimo anno, in modo da consentire una programmazione coordinata per tempo L'assessore Princi sta svolgendo un ottimo lavoro, ha dato un nuovo impulso, sono stati tantissimi bandi emanati dalla Regione Calabria appunto nel secondo semestre del 2022, è importante per noi operatori e quindi spero anche che si riesca ad emanare il bando 2023 nei primi mesi dell'anno in modo da consentirci una programmazione in tempi importanti a far sì che si possa programmare a livello nazionale in modo compito e completo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!